Il maltempo dei giorni scorsi ha sconvolto i programmi degli eventi religiosi di Pasqua, ma è stato solo un rinvio. Il forte vento ha flagellato il programma della festa, disancorando gran parte delle luminarie. A Comisora tutto è pronto sotto il segno del bel tempo per la processione del Cristo risorto e della Vergine annunziata. Sarà la seconda domenica di Pasqua, dunque, a fare da cornice a un evento molto atteso dai fedeli e dall'intera comunità cittadina, con la prima pace che si terrà in Piazza Santissima Annunziata. Il rito poi proseguirà per l'intera giornata. E intanto giovedì scorso è tornata l'atmosfera dei rituali in preparazione del clou di domenica. In Basilica è stata celebrata l'Eucaristia insieme con i sacerdoti che provengono dalla comunità dell'Annunziata. Alla fine della messa la benedizione delle mamme in attesa, la benedizione e la consegna delle icone di ceramica di Caltagirone della Madonna Annunziata. Ieri la celebrazione eucaristica nella quale è stato chiesto il dono della pace per le famiglie. Festeggiate le coppie di sposi che celebrano quest'anno il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. Alla fine della messa benedizione dello stemma della Basilica, scolpito sul legno di carrubo e dorato in foglia d'oro o zecchino. Oggi alle 17.30 ci sarà la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Leonardo. Alle 18.30 la preghiera del rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica e del sacramento del battesimo. In piazza Maria Santissima annunziata poi a partire dalle 21.30 la commedia dal titolo Amaro Kumori di Econ Turi Seminare e la sua compagnia teatrale. Domani, domenica 28 aprile, dopo il suono delle campare e lo sparo a salve di colpi di cannone in programma alle 7.30, ci saranno le messe alle 8 e alle 11.30. Alle 9 le bande musicali percorreranno le vie della città. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica e l'uscita dei simulacri di Gesù Risorto e di Maria Santissima annunziata, salutati dalla folle e dallo spettacolo di fuochi e colori. Allora, allora, allora! Grazie a tutti.